Ho deciso di fare questo video per comunicare con i pochissimi che mi seguono che è giunta l'ora di abbandonare il web. Il web lo considera una sedia d'ondolo, cioè ti dà la sensazione di stare sempre in movimento ma poi in ultimo video un passo. In realtà sono tutte discussioni che lasciano il tempo che trovano, basta caricare un video e ci si trovano 20 commenti che assolutamente travisano ciò che chi ha fatto il video, in questo caso io magari intendevo dire. Ma prima di lasciare il web volevo fare una considerazione. L'amico Silvano Bolluso ha tradotto dall'inglese un libro di Richard Weaver il cui titolo tradotto in italiano è Le idee hanno conseguenze. L'autore già dalla prima pagina si pone una domanda fondamentale e dice ma l'essere umano moderno è capace di ragionare? È ancora capace di ragionare? oppure ha perso totalmente la bussola? In penso 115 pagine lui dimostra che l'uomo moderno è incapace di ragionare, è incapace di usare la razionalità. Pensate che questo libro fu scritto nel 1949 quindi Weaver aveva ampiamente anticipato quello che sarebbe poi accaduto e già al tempo diceva guardatevi intorno, questo è un mondo assolutamente di follia. Questa precisazione per dire che appunto c'è una tale torre di Babel su tantissimi argomenti, c'è una tale confusione, sono tante tante teorie che si annullano vicendevolmente da averci fatto perdere totalmente la retta strada. E molte volte si è incapace di valutare idee e anche fatti perché si va più dietro al personaggio che l'ha detto e non dietro la verità di quanto viene affermato. Quindi in questa fase ritengo sia meglio, molto più utile dedicarsi ad altro, magari parlare con delle persone ma a quattro occhi, a tu per tu. C'è più la possibilità di spiegarsi, più la possibilità di far arrivare un messaggio. Ritengo che via web è veramente difficile. A meno che non si usino delle tecniche per adulare chi ascolta, per rimanere vaghi su determinati argomenti, eccetera, eccetera. Tutte tecniche vengono anche ampiamente usate. Quindi io ringrazio chi ha avuto la pazienza, che pochi hanno avuto la pazienza di seguire magari qualche mio video. Ringrazio ancora e buone cose a tutto ovviamente.